buongiorno ragazzi veramente ieri è successo un qualcosa che mi ha fatto capire che io sono personalizzato nella sfortuna quindi mi preoccupa loro qualsiasi cosa diciamo questo sono cavolato no perché una scherina è una cavolata noi figuriamoci per cose più serie cose più serie c'è il rischio veramente che possa rischiare non lo so non so anche una donna perché ciò mica mi capita mancazio non mi capita niente di buono quando mi capita c'è sempre un imprevisto allora ho fatto una scherina ieri una bolletta una bolletta scherina di calcio alla mattina ho messo la vittoria mi sembra del Milan altri risultati poi il gol ha detto vicino al mio barista di fiducia ho detto compilu agito guarda io mi metto il gol di quel doge della bologna che non segnava 30 partite ma è tempo capitale perché con napoli si fanno suscitare i morti proprio perché si è uscita pure questo mi hanno messo anche come primo e ultimo marcatore avevo sbagliato mette marcatore avevo messo come marcatore che va da casa non trovo la scherina primi due risultati presi il terzo risultato aspettando napoli preso perché questo è un doge segna che napoli è una squadra di merda stanno segna il gol della vittoria segna il gol di vantaggio proprio quindi il primo marcatore l'ho preso a suddi l'ho persa per stata la scherina ho cercato il lungo all'acqua sono tornato indietro tutta la strada cerca di questa scherina maledetta ma è che a questo punto è maledetta io aspetto due risultati oggi il gol dell'atalanta a roma che molto facilmente faranno un gol spero riva a questo punto e la vittoria da io sulla salinità anche ormai morta salinicana quindi c'è assurdo che io penso quando io ho vinto una scherina l'ho persa ragazzi l'ho persa una volta che vinco l'ho persa dopo tanto tempo dite voi dite voi se questa è sfiga oppure no non voglio io non è che mi sono svegliato la mattina sono andato a fare scherette dove non lo prendono che si sveglia mi cade la roba per tanto l'altro sperando di vincere poi l'ho persa sono 41 euro per carità non farò felice qualcuno che avrà vinto poi vincerà forse molto probabilmente ma che cazzo almeno 40 non sono legno anche di 41 euro ho detto questo sono affanculo sveglia di merda voi andate a raffare in culo voglio solo fortuna adesso non voglio solo la sfortuna mi sorti cogliere per la sfortuna grazie